Ciao, io sono Ali Nauradi, alla base sono marocchino crescito in Italia, però sono cittadino del mondo. Vorrei vivere una società innanzitutto fatta di amore, di compassione e di abbondanza. Vorrei una società davvero che innanzitutto rispetti la donna, perché la donna è importante, è quella che crea la vita. In una società dove ci sia equilibrio, dove ci sia non più la competizione ma la collaborazione, perché la competizione ci porta a eliminarci. E poi soprattutto in una società che si assicura, che si assicura per le nuove generazioni, ma anche per le generazioni vecchie, per chiunque. Perché la vita è così immensa e bella che bisogna cercarlo dentro di sé. Quindi io sono grato a Dio, all'universo, perché vivono all'abbondanza in questo momento. Quindi spero che chiunque faccia parte di questa associazione porti questo messaggio e porti leggerezza nel mondo, perché abbiamo bisogno di leggerezza. E soprattutto valorizzare le persone più che le cose materiali. Et voilà, e tu in che società vuoi vivere? Grazie! 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 Grazie a tutti.